Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. Due aerei militari si sono scontrati in volo e sono precipitati a Guidonia Montecelio, comune in provincia di Roma, distante circa 30 chilometri dalla capitale. Il terribile incidente aereo si è verificato poco fa, alle 11.50 di oggi, martedì 7 marzo. I due aerei rimasti coinvolti nel violento e improvviso incidente sono due Siai Marchetti 208 dell'Aeronautica Militare, appartenenti al 60 gradi stormo. Lo scontro è avvenuto, tra i due velivoli, mentre sorvolavano l'area attraversata da Via della Longarina. I mezzi si sono toccati nel corso di un'esercitazione, in cui erano impegnati quattro aeromobili in tutto. Uno dei due avrebbe perso un'ala ed entrambi sono precipitati. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per i due piloti. Uno è caduto sul prato vicino all'aeroporto, mentre l'altro si è schiantato su un'autovettura ferma, tra le abitazioni, in località Colfiorito, in piazzale degli Anemoni. Immediatamente sul posto sono intervenuti il 118, la polizia e i carabinieri. Gli altri due piloti sono rimasti illesi. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, appresa la drammatica notizia, ha dichiarato, la notizia della morte dei due piloti dell'aeronautica militare nell'incidente aereo avvenuto a Guidonia, nei pressi di Roma, ci riempie di tristezza. A nome del governo esprimo le mie più profonde condoglianze e la mia vicinanza alle famiglie, ai colleghi del sessantesimo stormo e all'intero corpo dell'aeronautica militare. Se il video è stato di tuo gradimento, lascia un bel like, per noi è molto importante. Grazie e arrivederci al prossimo video.